L'outfit, aspettative Realtà La lezione online, aspettative Siamo pronti per questa lezione insieme? Iniziamo! 5 sport di schiera dritta 1, 2, 3, 4 e 5 Passiamo al manubrio Military press, lo spingo solo con la destra 2, 3, 4 e 5 Adesso prendiamo l'elastico Acconture posteriori, 5 e poi ripetiamo tutto dall'altra parte 2, 3, 4, 5 Bravissimi! Recuperate e pronti a fare l'altro lato Realtà Siamo pronti per questa lezione insieme? Iniziamo! 5 sport di schiera dritta 1, 2, 3, 4, 5 2, 2, 3, 4 Passiamo al manubrio Sì! Veloci! Cambiamo! Il personal trainer online Aspettative Sì, vai così, bella Sì, schiera dritta, ancora uno Non mollare! Dammelo duro! Con me, insieme, insieme Continuiamo insieme, insieme! E le faccio tutte così, dai! E non mollare! Dai ancora questi squat! Brava, scendi, scendi così Perfetto! Realtà! Vai, vai così! Vai, non mollare! Spingi! Vai che dura! Sì! Dorsali a casa Aspettative Oggi dorsali a casa Nella mia splendida attrezzatura Per le trazioni Vai così! Me le poppo! Sì! Bellissime! Realtà! Allora oggi Schiera dorsale a casa Come posso fare? Allora Rilassi Sì, sì Ho visto fare Allora, così Bello Aspetta, questo Sì Andava troppo leggero per me Ah, sì, sì Aspettative Così vai La voglia di allenarsi Aspettative Super pronta per l'allenamento maturino Realtà Aspettative Vai, adesso ce la posso La challenge online Aspettative Realtà L'alimentazione Aspettative Sì coach, ho preparato tutto per oggi Allora, collezioncina, adesso le crusche prugne Soglia senza zuccheri, metà mattina Io ho molto di soglia, un po' di frutta secca Poi ho pre-post-workout E vegan protein come mi ha detto Poi per pranzo Topo affumicato Spezzatina vegetale, pasta proteica 100% di lenticchie Tagliata vegetale e poi abbiamo Un affettato con pari integrale Alla grande, eh Stiamo sui 200 di proteine, 220 Carbo ok, grassi bassi Perfetto, continuiamo così ogni giorno Fatto scorta, tutto alla grande Rialtà Pronto, coach Sì Alla grande Mangio adesso No, no, no No, no Puffo Sono tutto preciso, eh Integro Come mi ha detto Proteine alte Altissime Pulissime L'ora libera Aspettative Oh, finalmente oggi un'ora d'allenamento Tutta per me Realtà Oh, finalmente oggi un'ora d'allenamento Tutta per me Sì? No, no, tranquilla Sono libera Sono libera Sì, sì, sì Dimmi, dimmi Dimmi Mamma fammi, mamma fammi Mamma fammi Mamma fammi Mamma fammi Mamma fammi Sì, arrivo, arrivo L'attrezzatura Aspettative Allora, vediamo se mi è arrivato tutto Allora, panca Kettlebell da 20 Boss Doppio manubri da 30 Kettlebell per fare stripping Doppio bilanciere con 70 kg sovraccarico Ah, cinturina per fare le trazioni Con sovraccarico Doppio elastico Per lo stretching Slow fit Yoga wheel Tappetino Beh, direi che Sono a posto Alla grande Realtà Allora, vediamo se ho preso tutto Zaino 4,85 kg con i libri Per fare gli squat Poi Bottiglia per bicipiti E direi fare anche un bello stripping Con il zucchino Così Pesa anche meno L'allenamento in famiglia Aspettative Squat insieme, vai E Uno Vai Due Bravissimi Vai Tre Vai Uno Vai Due Vai Tre Uno Due Tre In realtà Vai Ma non c'è Mi sto allenando Via Dai Fermi in secondo Su Puppa vai Piano Piano Mi strozzi Piano For me For 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 Grazie per la visione!